tra l'isola di Procida di mister Rubrano e lo Stasio Soccer valida per la quattordicesima giornata del campionato di eccellenza inizia la partita con Cagliazza che subito appoggia per Agliari, lungo lancio scorse settimane è stato però tenuto in rosa dal Procida Miele per Demico, il destro di Demico alto sopra la traversa, prima occasione per lo Stasia prestato alle spalle da Arenella Puccinelli, si coordina per il destro effettuato, palla sul fondo Esposito per Costagliola che scivola all'ora di Costanzo, Esposito recupera però la palla, è bravissimo l'ex della Battipagliese Dauria col sinistro da fuori, palla sul fondo palla lunga per Costagliola di testa Cagliazza Marigliano serve involontariamente Demico Bardet in qualche modo, dentro per Muro, gran palla cross di Muro, basso, Dauria palo, clamoroso siamo girati dall'altra parte con Puccinelli che si accentra, col destro, palla alta sopra la traversa, Vallefuoco su Demico Rosario Esposito perde palla ma Arenella in area di rigore si accentra, Arenella il destro debole, blocca Bardet Demico il sinistro di Puccinelli Rosario Esposito apri le lanci in avanti Agliari liscia il pallone Dauria alle spalle l'intervento di Cagliazza cross al centro di Dauria e sul secondo palo Costagliola fallisce un gol clamoroso Agliari aprile lancia Costagliola che può andare in porta lo rincorre Agliari pallonetto di Costagliola che sfiora la traversa a fermarsi aprile in area di rigore punto è il numero due De Falco il tiro di aprile respinto da Amato Costagliola ancora a visaggio Marigliano Costagliola Marigliano in area di rigore lo spunto per Toni Costagliola col destro troppo lungo sul secondo palo l'altro dei fratelli Lorenzo Costagliola Lorei propone al centro Fiorillo non ci arriva Toni Costagliola il gol del Procida che passa in vantaggio la sblocca lui con il quinto gol della stagione del Procida Toni Costagliola finisce qui il Procida torna alla vittoria batte lo Stase